La cucina secondo office, atto finale. Arriva a compimento il corso completo di cucina dall'antipasto al dolce organizzato dall'associazione Picenum Tour in collaborazione con lo chef Daniele Citeroni Maurizzi dell'Osteria Office. La cena che ha visto portate e preparate interamente dagli allievi del corso è stata anche occasione per la consegna degli attestati di frequenza. Questa si è svolta presso i locali dell'Enoteca regionale Vinea di Offida. Una cena conclusiva dove gli allievi cucinano per amici e parenti. Ci sono diversi invitati, è un corso che è andato molto bene che poi tra l'altro ripeteremo a breve, nel senso che siccome ha dimostrato molta attenzione adesso a marzo ne ripartirà un altro, diciamo sempre corso base praticamente. Abbiamo intenzione poi il prossimo anno eventualmente di fare un corso avanzato. I partecipanti innanzitutto sono tutti più o meno della zona, quindi da Castel di Lama, Spinetoli, Grotta a Mare, San Benedetto, un po' qui della zona. Sono 15 corsisti che hanno partecipato e l'età intorno a metà media 35-40 anni. Più maschi che femmine in questo caso volevano un po' approfondire alcune cose, non so anche nel pesce in particolare, nel senso come si pulisce, come si spina, che sono alcune cose che normalmente non facciamo, comunque facciamo in maniera un po' approssimativa. Grazie.